Oggi parliamo di una super chitarra low cost. E no, questa volta non è un Harley Benton. Sigla! Buongiorno amici e benvenuti, qui siamo al B&Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di questa bellissima chitarra. Prima però di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto e non dimenticate la campanellina. Tutta questa procedura, ormai lo sapete, è gratis, a voi non costa nulla, però dà la possibilità di crescere a questo canale e di portarvi qui queste bellissime chitarre. Sempre grazie a Andrea di Firebird che gentilmente ci fornisce appunto tutta la strumentazione per fare questi video. Grazie Andrea! Ora però parliamo di questa chitarra. È una Ibanez della serie Gio o Gio. Vedete voi come chiamarla. E come ho detto in presigla, no, questa volta non è un Harley Benton. Perché dico così? Perché ultimamente su YouTube vedo tanti colleghi YouTuber che parlare solo di Harley Benton. sulle chitarre low cost. Lo faccio anch'io, l'ho fatto anch'io e probabilmente lo farò ancora, perché comunque Harley Benton sta lavorando molto bene. Sta facendo delle chitarre molto belle a dei prezzi molto interessanti. Ma, ma la concorrenza non è lì che sta guardando e basta. Ma sta facendo delle chitarre veramente molto belle a prezzi molto 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 interessanti. Come questa Ibanez serie Gio e come potete vedere il colore è stupendo. Il body è in acume, mentre il top è in pioppo, il manico è in acero e la tastiera è in paper hair. Tipo di legno particolare, abbastanza morbido, molto bella. 24 tasti, 2 unbuckers, ponte fisso, eccezionale. Sulle chitarre low cost, io preferisco molto il ponte fisso piuttosto che leve, vibrati e falsi Floyd Rose. Perché se andiamo a scendere di prezzo sulle chitarre e mettiamo dei ponti oscillanti, la cordatura ne soffre parecchio. Qui hanno messo un ponte fisso, ottima idea, direi veramente ottima idea, con le corde passanti. Quindi molto bella questa cosa, veramente potete vedere è un bolt on e questi due unbuckers suonano veramente molto bene. Una chitarra prettamente per il rock duro, ma a me è stupito per la sua versatilità. E adesso vi faccio sentire quanto è versatile questa chitarra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.